Trofeo Luigi Fagioli Trofeo Luigi Fagioli che si sviluppa sui 4.150 metri della gubbia Madonna della Cima un tracciato importantissimo e soprattutto selettivo per il binomio tra pilota e macchina Correre qui significa cercare di spingersi e di andare oltre ogni limite Rappresenta un grande orgoglio per noi, qualcosa che ci appartiene dentro ci nasci da bambino con questa passione Viene definita la Monte Carlo delle Salite proprio per la sua naturale bellezza Il paddock all'interno delle mura della città medievale più bella d'Italia è da brividi Un fiume di colori che profumano di vita Vedere bambini e famiglie passeggiare felici tra le auto da corsa con lo sfondo della nostra gubbio è una soddisfazione incredibile Grazie 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 a tutti.